Mancano pochissimi giorni all'espansione di Elden Ring questo DLC che uscirà tra poco quindi in questo caso ti consiglio di preordinare anche il prodotto e di attivarlo sul tuo account Steam così facendo potrai anche ricevere il gesto bonus di Elden Ring il gesto può essere usato nel gioco con il contenuto il contenuto bonus sarà disponibile all'uscita dell'espansione il gesto potrà essere comunque sbloccato giocando l'espansione quindi in questo caso ti ho lasciato il link in descrizione che ti porterà sulla pagina di Instant Gaming per prenderlo ad un prezzo veramente buono a soli 30€ come puoi vedere la differenza tra i 39,90€ e i 30€ quindi tu puoi preordinare il prodotto su Instant Gaming preordina, ti daranno così la chiave come puoi vedere due anni fa comprai così il gioco Elden Ring mi hanno dato la chiave e l'ho attivato così su Steam sul mio account quindi aggiungi un prodotto Steam con la chiave aggiungi così la chiave del gioco e l'hai preordinato quindi l'hai comprato ti daranno anche il gesto che potrai usare nel gioco quindi compra, preordina questa espansione di Elden Ring a soli 30€ quindi grazie a tutti per questa visione grazie per il vostro tempo e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao